Per fare una rivoluzione seria bisogna partire da un principio che secondo me è fondamentale. Qualsiasi governo si voglia ribaltare o modificare nella sua forma, nella sua anima, bisogna tenere presente che comunque, soprattutto in questo paese, ma non solo, vale in generale, ognuno ha il governo che si merita.